Voga 2015, giorno 27, argomento di oggi «Miglior motto motivazionale». Bene, quello che preferisco sicuramente è «Se cominci, saprai se andrà bene o male, ma se non cominci, sicuramente è andata male». Quindi tutto qui, semplice e conciso. E voi? Qual è il vostro motto motivazionale? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. E come sempre ricordate di condividere, fare pollice in alto e iscrivervi al canale. Sono Grizzly, giorno 27, ci vediamo domani.